Nella riunione che si è tenuta con i vertici della Battipagliese Calcio è stata sollevata la questione di non poca rilevanza della mancanza di fondi disponibili che possono rendere gratificante l'attività agonistica della Battipagliese Calcio. In una nota dell'amministrazione della Sindaca Cecilia Francese si chiarisce Al di là di tutto quello che il Comune potrà mettere in campo in termini di servizi per sostenere la squadra della propria città ed attuare ogni iniziativa utile affinché sia garantito il rispetto e l'amore per lo sport e per tutti coloro che dedicano il loro impegno a sostenere in un periodo così difficile dal punto di vista economico la propria squadra. L'amministrazione comunale rivolge un appello forte e deciso agli imprenditori del territorio. È necessario un coinvolgimento di quanti hanno a cuore il futuro del calcio battipagliese. Per la Sindaca Francese è arrivato il momento in cui bisogna testimoniare l'orgoglio di appartenenza e il gioco del calcio rappresenta un fattore essenziale di storicità del territorio. Per tale ragione invito le energie economiche forti presenti sul territorio ad offrire le risorse necessarie perché un tassello della nostra identità sportiva continui serenamente il suo percorso. Spero che questo invito possa essere accolto e ne attendo una forte risposta. Grazie a tutti.